oggi ho realizzato la ricetta della crema pasticcera con il messier cuisine connect ma con lo stesso procedimento potete realizzare la stessa ricetta anche con il messier cuisine plus si tratta di una delle ricette più difficili da realizzare con il messier perché non sempre riesce bene questa ricetta che vi consiglio è quasi infallibile quindi seguite bene gli ingredienti del procedimento per realizzarla ecco gli ingredienti per preparare la crema con il nostro messier cuisine allora abbiamo 4 tuorli 8 cucchiai di zucchero 8 cucchiai di farina un litro di latte e una fioletta di aroma io metterò quello al limone potete mettere anche quella alla maniera oppure se preferite potete utilizzare la boccia di limone grattugiata e se avete dei limoni freschi e non trattati in casa la prima cosa che facciamo è mettere i 4 tuorli e gli 8 cucchiai di zucchero nel boccale 4 tuorli ed impostiamo 30 secondi a velocità 4 mettiamo poi la farina e l'aroma io non metto tutta la fioletta metto solo alcune gocce circa poco meno di metà ed impostiamo di nuovo 30 secondi a velocità 4 come ultima cosa aggiungiamo il litro di latte e impostiamo l'uscita 3 a 100 gradi per 20 minuti per ora lasciamo il misurino inserito quando siamo all'incirca a metà del tempo verifichiamo il livello di addensamento della nostra crema ed eventualmente vedessimo che troppo lenta togliamo il misurino e lasciamo cuocere senza capo la crema sta terminando la sua cottura adesso andiamo a vedere con me all'interno del boccale sembra ben riuscita adesso apro il coperchio vi faccio vedere l'interno vediamo all'interno del nostro boccale la crema sembra perfetta direi di sì adesso è ideale per essere mangiato per farcire le vostre torte adesso la vado a mettere in una ciotola e vi faccio vedere bene la consistenza eccola qui nella ciotola vedete ha una consistenza perfetta piano piano che si fredderà andrà anche ad addensarsi un pochino di più spero che il procedimento e la ricetta per la nostra crema pasticcera densa vi siano piaciuti e se vi sono piaciuti vi invito a seguire queste ed altre ricette sul mio sito www.messiericette.it inoltre per scambiarvi consigli opinioni e nuove ricette con i nostri robot da cucina potete iscrivervi al gruppo facebook messier chiusi in connette plus italia e se vi è piaciuta questa ricetta come l'ho realizzata iscrivervi a questo canale in cucina con messier e buona cucina a tutti iscriviti al nostro canale